In questo breve video vediamo insieme qual è lo sviluppo nel disegno dell'infanzia. Allora innanzitutto dobbiamo dire che il disegno è uno strumento fondamentale per la psicologia dello sviluppo, è uno strumento sia clinico ma anche di valutazione cognitiva, importantissimo, e gli psicologi dello sviluppo cercano di interpretare il pensiero del bambino tramite il suo disegno anche chiedendo direttamente al bambino che cosa ha disegnato, che cosa vede nel disegno. È per quello che il colloquio con il bambino è fondamentale e infatti è nella relazione che poi si instaura con lo psicologo che si capiscono i significati di determinati aspetti del disegno. Quindi come abbiamo detto il disegno è un ottimo strumento clinico di valutazione dell'interiorità, dell'emotività del bambino ma anche del suo percorso cognitivo, tant'è che si valuta anche proprio eventuali ritardi mentali attraverso il disegno. Il disegno è interpretabile dai tre anni fino a quando si vuole sostanzialmente, anche in età adulta si può proporre dei disegni ai propri pazienti. Poi il disegno diventa una performance però dopo i dieci anni, quindi bisogna tenere in considerazione che il disegno del bambino tra i tre e dieci anni è molto spontaneo, mentre poi dopo i dieci anni, quindi in adolescenza, iniziano ad entrare gli elementi realistici e c'è spesso una perdita di quegli aspetti simbolici che invece nel bambino sono proprio puri. Con questo non voglio dire che non si possa usare il disegno anche in età adulta, ma bisogna ovviamente considerare che c'è comunque un aspetto di realismo e dove si va a rischiare di perdersi degli aspetti simbolici. Vediamo quelle che sono le tappe di sviluppo dell'abilità cognitiva nel disegno, che sono la fase del grafismo infantile dai 18 mesi ai tre anni, la fase delle forme dai tre ai sei anni, la fase pre-schematica o stadio pittorico dai quattro ai sette anni, la fase dello schema visivo dai sei agli undici anni e la fase dello pseudonaturalismo dai dodici anni. Li vediamo adesso uno ad uno per capire meglio insieme di cosa si tratta. A partire proprio dalla fase del grafismo infantile, cioè siamo tra i 18 mesi e i tre anni. Allora diciamo che questo è il periodo degli scarabocchi, scarabocchi che tra i 18 mesi e i due anni e mezzo sono scarabocchi disordinati, cioè non hanno alcun significato simbolico rappresentativo, ma sono solo utili per l'allenamento del movimento, per la coordinazione. È un movimento spontaneo, casuale, che ovviamente migliora con il tempo. Più lo si fa, infatti sono importanti questi scarabocchi perché aiutano proprio il bambino ad allenarsi, perché il movimento anche, l'utilizzo della penna, del pennarello o altro, migliorano proprio la precisione. Poi intorno ai tre anni iniziano ad esserci gli scarabocchi controllati, cioè che hanno un significato, che hanno maggiore consapevolezza, dove sicuramente il bambino ripete magari spesso gli stessi scarabocchi proprio perché vuole migliorare il tratto grafico. Nella seconda fase siamo tra i 3 e i 6 anni, quindi siamo nel periodo dell'infanzia, della scuola dell'infanzia. È paradossalmente importantissima per la diagnosi clinica, infatti è la fase più usata nella diagnosi clinica, anche perché il bambino si esprime molto attraverso il disegno e i bambini attribuiscono significato al disegno che però si coglie soltanto con il dialogo con l'adulto, con lo psicologo, per comprendere proprio il significato del disegno. Il bambino in questo periodo non si focalizza più sul movimento e quindi sull'esecuzione, ma sul significato e sull'intenzione, quindi sostanzialmente il bambino si focalizza su cosa vuole disegnare e non più tanto sul come. Si sviluppano delle capacità visospaziali importanti, cioè il vicino e lontano, poi lì sono importanti anche le esperienze fatte all'interno della scuola dell'infanzia, dove l'aspetto del disegno e del tratto grafico sono importantissimi. Si imparano le forme, si iniziano a fare dei cerchi, dei triangoli, delle spirali e poi c'è un primissimo tentativo di figura umana, quindi questo omino testone, questo cerchio che rappresenta l'omino testone, ovviamente tutto a pezzi, cioè solo la testa, poi dopo iniziano a metterci il collo, poi iniziano a metterci il braccio e questo periodo è una fase di realismo mancato perché non c'è assolutamente realismo ed è per quello che il dialogo con lo psicologo è fondamentale perché se non ci si fa spiegare che cos'è il disegno, che cosa rappresentano le varie parti del disegno, è difficile riuscire a capirli. Invece poi tra i 4 e i 7 anni, quindi siamo verso la fine dell'infanzia e verso l'inizio della scuola primaria, quindi primo e secondo anno, abbiamo la fase preschematica o lo stadio pittorico, dove proprio c'è lo sviluppo maggiore della figura umana con l'omino testone all'inizio e poi piano piano iniziano a metterci il naso, iniziano a metterci la bocca e piano piano sempre più dettagli, però c'è una scarsa, ancora una scarsa preoccupazione per la collocazione spaziale, quindi dove metto magari io prendo un foglio e il bambino non riempie tutto il foglio oppure lo fa solo un pezzettino e anche le proporzioni ovviamente sono magari fa un lomino con la testa enorme e il corpo piccolissimo. E poi arriviamo alla fase 4 dove c'è una fase dello schema visivo, siamo proprio all'elementare, quindi nella scuola primaria sviluppiamo maggiormente la figura umana, c'è una maggiore organizzazione anche del foglio e dello spazio, un maggiore realismo anche nei dettagli, anche se rimane un'esagerazione delle dimensioni degli oggetti con significato simbolico. E poi è carino perché rimane sempre una punta di creatività e di infantilismo che però in questo caso ci sta tutto, cioè il fenomeno dei raggi X, cioè addirittura il pensiero che dentro quel oggetto io possa vedere con i raggi X, quindi magari il bambino mi disegna una scatola chiusa e mi dice ma non vedi che dentro c'è quella cosa? Perché lui ha i raggi X, lui ha la capacità creativa incredibile di bambini proprio di riuscire a vedere ciò che non c'è, quindi c'è ancora un problema di realismo che però viene risolto tra virgolette nella quinta fase dello pseudo naturalismo, siamo ancora comunque nel periodo non del naturalismo puro perché quello si svilupperà poi in fase adulta, dove il disegno è più fedele alla realtà, quindi disegni più realistici, meno legati all'immaginazione, con precisione spaziale e prospettica, maggiore uso anche del colore, dello spazio eccetera. E qua siamo dai 12 anni, poi piano piano più si va avanti e più si è realisti e naturalisti. Che cosa viene analizzato nel disegno del bambino? Allora io adesso vi spiegherò gli aspetti principali che vengono analizzati, ovviamente senza pretesa di esaustività in primis e poi senza andare proprio nel dettaglio, anche perché questi strumenti sono strumenti degli addetti ai lavori, quindi solo chi psicologo, psicoterapeuta, fa dei corsi specifici può analizzare in modo completo e professionale un disegno di un bambino. Quindi non pensate che con questi pochi dettagli che vi do una persona possa analizzare il disegno di un bambino, assolutamente non è possibile. Allora c'è la gestione dello spazio nel disegno, questo è un aspetto importante che delimita proprio la capacità per esempio del bambino di esplorare il mondo esterno. Oppure si va a vedere se il disegno è pieno o vuoto, pieno di eccessi, per vedere maggiormente se il bambino è più introverso o estroverso. Poi si guarda il punto di partenza, quindi si guarda, si osserva il bambino quando inizia a disegnare, da dove parte, se parte dal centro o parte dai lati e in base ai lati, se parte da destra, se parte da sinistra, hanno tutti dei significati diversi. Anche il tratto, se è più sicuro, se è più tremolante e questo è un altro aspetto importante che va tenuto in considerazione. Poi il tracciato, quindi se ci sono più linee curve, spezzate, riprese più volte, oppure l'uso dei colori, che colori vengono utilizzati e in quali circostanze. Per quello che vi dico che queste due slide sono giusto per farvi capire che il disegno, l'analisi del disegno è molto complessa, ci sono dei corsi, io per esempio ho fatto dei corsi proprio specifici, per esempio sul test della figura umana, sul test dell'albero che adesso vi elenco brevemente e ovviamente ci sono un sacco di aspetti da tenere in considerazione nel disegno del bambino. Infatti alcuni test sullo sviluppo sono per esempio il test della figura umana o della persona, il test dell'albero, il test della casa, il test della famiglia, che vengono anche utilizzati con gli adulti in alcuni casi. Vengono accompagnati da un breve colloquio con il bambino per interpretare il disegno sulla base della sua riflessione, quindi attraverso questi test si va ad analizzare meglio gli aspetti cognitivi ma anche gli aspetti emotivi e i tratti profondi della sua personalità. Benissimo, io finisco questa lezione con una bellissima frase di Vygotsky che dice che a mano a mano che ci sviluppiamo smettiamo di imitare semplicemente il comportamento degli altri o di reagire automaticamente agli stimoli provenienti dall'ambiente. E sì, perché a mano a mano che andiamo avanti non è più limitazione, ma dobbiamo essere spontanei, autentici e sostanzialmente noi. Io come sempre vi aspetto nelle prossime puntate, iscrivetevi al mio canale cliccando la campanella per avere le notifiche e poi vi aspetto anche sugli altri miei canali social. A presto!